Ehi, papà, amore, ma sei matto, ma ci hai fatto preoccupare, ma perché preoccuparti, eravamo in giro con Duccio e con un nostro nuovo amico, Monte Carlo, eccolo qua, ma hai bevuto? Ehi, papà, che cosa abbiamo bevuto? Ce l'ha chiesto pure la polizia, allora, signori, ascoltate tutti quanti, questo è il nostro nuovo amico Monte Carlo che l'abbiamo trovato sul Longotevere, Monte Carlo è un maestro assoluto di buon ton ed è soprattutto un artista, ora vi facciamo vedere, tre, quattro, ui, ehi, 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 ehi Per Montecarlo. Portaccici loro. Montecarlo, tu sei il mio miglior amico. Dove abiti? Te ne presento Ponte Caribaldi? Ponte Caribaldi, bella zona, ma sopra o sotto? Sotto? Sotto. Dulce, io me sto un po' annoiando. Veramente? Lorenzo, facciamo qualche cosa che si sta annoiando a Montecarlo, dai. Che ne so io? Raccontavo una storia di quelle due di Matera, una cosa bufa. Magari una storia di estrema povertà in Lucania. Ma che cazzo dici? No, è che voglio andare via, sono stanco. Non la vuoi sentire una storia di estrema povertà in Lucania, no? No, non la voglio sentire. Te lo vuoi andare a casa? Si, vuoi andare a casa. Sergio! Dimmi, Duccio. Una macchina per l'amico Montecarlo che deve tornare... Dov'è che hai detto che abiti? Ponte Caribaldi va bene. La casa tua proprio dov'è? Ponte Caribaldi va bene. Ponte Caribaldi va bene!